Parliamo di Mission Impossible Dead Reconing parte 1. Come potete vedere la recensione di oggi è un po' diversa, non solo per la location, sono nella stessa stanza in cui più di un anno fa registravo, ma questa volta abbiamo anche un altro individuo nell'inquadratura. Lui, per chi non lo conoscesse, è mio fratello Marco, è già comparso in qualche video ogni tanto qui sporadicamente sul canale, ma l'ho scelto oggi per parlare insieme di Mission Impossible Dead Reconing in una recensione un po' più discorsiva del solito, perché essendo due viene più facile, perché intanto abbiamo visto il film insieme in sala, e in più lui l'ha visto senza aver visto nessun altro film di Mission Impossible, quindi farà un po' la voce di chi magari vuole vedere questo film, questo nuovo film, senza conoscere nulla della saga originale. Ovviamente io ne parlerò in modo molto semplice, dato che non me ne intendo di cinema, parlerò magari soprattutto dell'aspetto della musica, visto che io faccio il musicale. Ne parlerà quindi un po' da spettatore occasionale, che appunto non si sofferma sulla criticità a livello cinematografico, appunto come ha detto ne parlerà magari un po' più sulla musica, visto che è il campo in cui sta. Come primissima cosa però appunto intanto il film credo sia piaciuto da entrambi, sì. Assolutamente sì. Ho notato pure la facilità nel capire la trama, dato che io non ho visto appunto gli altri sei film. Intanto come primissima cosa vorrei parlarne un po' tecnicamente, magari se vuoi dire qualcosa puoi anche introdurre qualche piccola parte dei tuoi pensieri. Per quanto riguarda questo film appunto si può capire anche da chi non ha seguito l'intera saga per più di 25 anni. Io ho visto i primi sei film solo qualche settimana fa, proprio in occasione di questo settimo film. Alcuni mi piacciono, altri no, però comunque mi sono affezionato alla saga in pochissimo tempo, perché è abbastanza semplice affezionarsi a un personaggio iconico ormai come Ethan Hunt. Io nonostante non abbia visto gli altri sei film, mi sono affezionato subito ai personaggi in soli due ore... Soli due ore e 47 non sono soli. Soli, vabbè, due ore e 47 sinceramente sono pochi rispetto a 25 anni. Vabbè questo sì, però comunque per quanto riguarda appunto la durata è un po' eccessiva, perché un film di due ore e 47 soprattutto per quello che deve raccontare questo film, siamo un po' troppo oltre. Ci sono addirittura scene prolungate a livelli estremi. Per quanto riguarda la regia, non ho capito per quale motivo ho notato qualche problema. Problemi che non c'erano negli altri film, soprattutto gli ultimi, quelli di McCorrey. E sembra strana questa cosa, perché anche non solo sul fronte regia, ci sono diversi problemi anche sui dialoghi, nella sceneggiatura, anche non nella sceneggiatura per quanto riguarda la storia, ma proprio in alcuni dialoghi, in alcuni momenti parlati del film. Sembra che non sapessero cosa dover mettere in quel momento e hanno iniziato a parlare senza un vero e proprio motivo. Però nonostante questo, a me il film è piaciuto. A proposito di problemi, ho notato che la musica a volte è molto più alta della voce. Alcuni personaggi vengono sovrastati infatti dalla musica in alcune scene, proprio in quelle a Roma tra l'altro, ci sono i momenti in cui la musica è veramente alta. Per quanto riguarda invece la musica, la soundtrack è diversa dal primo film a quest'ultimo. Sinceramente mi è piaciuta. Per quanto riguarda il film invece, parliamo un po' generalmente, ovviamente senza spoiler all'inizio, poi un piccolo discorso finale con spoiler entrando nei dettagli. Intanto la cosa che ho preferito di questo film è che la tensione, soprattutto nel terzo atto, si sente tantissimo, con scene prolungate, c'è una scena soprattutto che dura un'eternità, ma siccome è un momento di tensione ben costruito, anzi veramente nonostante sapessi che non sarebbe successo nulla, diciamo almeno a un personaggio, la tensione l'ho sentita, ho sentito, ho avuto paura tra virgolette per quel personaggio. In questo caso la musica svolge un ruolo molto importante, soprattutto per mettere più ansia. Musica e silenzio anche, perché anche i silenzio aiutano nella tensione. Il film inizia con una presentazione di quello che vedremo poi da lì a poco, con magari un oggettino importante, anzi più di un oggettino importante, che è un po' all'Indiana Jones da ricerca in questo film, un po' come la zampa di lepre nel terzo. E poi ci viene come sempre presentato Ethan Hunt, sempre il Tom Cruise del solito, anche nella realtà, visto che sappiamo tutti quella scena che ha fatto in questo settimo film, di lui che si lancia dalla rampa. Nel film non è una rampa, però l'azione è fatta comunque. E anzi, quel momento è ben realizzato, anche con la CGI, perché ce n'è di CGI ovviamente. Nel caso ti è piaciuto, diciamo, il modo in cui ti hanno presentato Ethan Hunt senza conoscerlo, il personaggio? Sì, ho capito anche il loro valore. Hai capito un po' lo status dei personaggi? E questo è un bene per appunto un film del genere che è il settimo, praticamente l'ultimo in realtà, è proprio l'ultimo, solo che è diviso in due parti e comunque si può guardare da tutti a questo punto. Non so se poi l'ottavo o la parte due sarà appunto nello stesso modo, però questo intanto lo è. Avete tutto il tempo per recuperare gli altri sei film prima dell'ottavo parte due. Consiglio a chi come me non ha visto gli altri sei di guardarli e poi di andare a vedere il sette, ma se non avete il tempo non preoccupatevi, potete andarlo a vedere tranquillamente. Tanto, come ha detto lui, avete il tempo fino al 2026. E infatti comunque tu dopo questa recensione andrai a vedere i sei film tutti oggi assieme, di blocco, giusto? Sì, ok. L'attenzione si tiene fin dall'inizio, per esempio c'è una scena in aeroporto che solitamente è il climax del finale, del film, dei film di Mission Impossible. Questa volta l'hanno messo all'inizio perché la posta in gioco è molto più alta in questo film del solito. In questa scena ci viene presentato il personaggio di Grace, interpretata da Haley Atwell, ovvero la Captain Carter o comunque Agente Carter dell'MCU, l'amore di Captain America. E in generale comunque è un personaggio che non si era mai visto assieme anche ad alcuni villain. In realtà, no, la maggior parte dei villain sia fisici che non fisici, perché c'è anche questa distinzione tra i due. Comunque il personaggio sembra abbastanza interessante. Ho come l'impressione che vogliono continuare dopo con lei, se piacerà le persone come personaggio. Possibilmente dopo Mission Impossible 8, Itananta o si ritira, o si ritira proprio dalla vita. Speriamo di no, però potrebbe succedere. E magari appunto nel futuro di Mission Impossible, che sicuramente continuerà perché è una licenza importante, sicuramente non finiranno qui con i film, potrebbe essere proprio la... Grace potrebbe essere proprio la protagonista della nuova saga, di una serie, non lo so quello che succede. Comunque il personaggio ti è piaciuto, penso? Sì, assolutamente. E i villain? Per quanto riguarda i villain, il villain principale, senza fare spoiler, naturalmente ti dà modo di poterne parlare? Sì, perché è una cosa molto attuale, che potrebbe succedere anche da un momento all'altro. E infatti proprio gli attori, prima i registi, poi si è sistemata la roba dei registi, ma anche gli sceneggiatori, stanno scioperando anche per questa cosa. Infatti nel film c'è una frecciatina a questa cosa, per cui stanno scioperando gli operatori del settore. Diciamo che comunque potrebbe sembrare minaccioso come villain, questo principale. Poi ci sono gli scagnozzi, che vabbè, possiamo parlarne un po' di più, sempre senza fare spoiler, ma il villain principale è qualcosa di diverso dal solito di Mission Impossible, che ovviamente tu non conosci, però è qualcosa di molto diverso. Qualcosa di veramente importante e imponente, soprattutto. Importante e imponente perché può essere ovunque, diciamo. Esatto, e sa tutto. E la cosa interessante è appunto il modo in cui l'hanno presentata, perché non te l'hanno spiegata bene, non l'hanno spiegata proprio al 100%, penso che la spiegheranno poi nell'ottavo film, se hanno scritto tutto in blocco, cosa che credo perché è comunque stato diviso dopo il film. Però in qualche modo sapremo qualcosa di più prossimamente, ma in questo film comunque la spiegazione che hanno dato, non certa, comunque delle speculazioni da parte dei protagonisti, dei personaggi, sono interessanti, perché appunto sono solo teorizzazioni di chi come noi non sa. C'è qualche piccolo problema ogni tanto, perché si dimenticano i poteri, la possibilità di questo villain principale, e quindi contraddicono un po' la roba. Per esempio c'è una scena, magari ne parlerò nella parte con spoiler, in cui il villain principale poteva entrare in atto e non l'ha fatto. Anche perché diciamo che l'obiettivo di questo villain non è fare male a Ita Nanto, un po' come in Fast X, perché è praticamente la stessa cosa con annesse scene a Roma. In Fast X l'obiettivo di Dante, di Dante Reyes, di Momoa, non era uccidere Toretto, ma fargli male uccidendo tutti i suoi amici, la famiglia. Ecco, in questo film è praticamente la stessa cosa, perché l'obiettivo del villain è non uccidere Ita Nant, non fare del male a Ita Nant, ma farlo soffrire. Uno dei villain almeno. Penso che siccome uno dei villain è assoggettato al villain principale, penso sia anche l'obiettivo del villain principale stesso, quindi è un po' strano che in alcune scene non abbia fatto assolutamente niente. Per quanto riguarda invece, quanti villain ci sono in questo film? Ce ne sono abbastanza, tralasciando quello villain principale. I scagnozzi, chiamiamo. I scagnozzi, e poi c'è anche un altro personaggio interpretato da Vanessa Kirby che è un po' a parte da questi villain scagnozzi, ma ha fatto comunque il suo dovere, diciamo. L'attrice è comunque protagonista di alcune scene di tensione, soprattutto antecedenti alla scena che veramente mi ha tenuto con gli occhi sbarrati sullo schermo, almeno per quanto mi riguarda quella finale, diciamo, di proprio tensione pura. Il modo in cui comunque finisce il film in generale è aperto naturalmente perché essendo una prima parte ci sarà la seconda, nel 2000 e boh, visto che adesso sono tutti in sciopero, sia sceneggiatori che attori da qualche giorno, quindi anche Tom Cruise, tutti gli attori che abbiamo visto in questo film sono in sciopero, si sono frenate tutte le riprese di qualsiasi film, anche Deadpool 3, mannaggia. Per quanto riguarda il finale, la scoperta che si presenta nel finale, secondo me potevano trattarla meglio perché per tutto il film in realtà l'hanno presentata già, quella scoperta, e poi la presentano come se fosse un colpo di scena inimmaginabile, invece di una cosa che abbiamo visto all'inizio film. Mi è sembrata un po' strano quella scena, mi è sembrata un po' strana quella scena in realtà, anche per un qualcosa di uno dei villain, una scelta di uno dei villain che mi ha fatto un po' storcere il naso. Devo dire che nel film ci sono vari colpi di scena, uno in realtà secondo me è abbastanza prevedibile che riguarda due personaggi, per me quello è prevedibile, magari tu non sei riuscito a prevederlo perché non sei stato diciamo attento alle bandierine che hanno lanciato fin dall'inizio, ma hanno cercato di dirlo fin dall'inizio in qualche modo. Il finale devo dire che è molto aperto, infatti non vedo l'ora che esca la parte 2, anche se come hai detto c'è lo sciopero, quindi ho paura che non credo uscirà tra pochi anni. La cosa interessante però è che quello che vediamo in questo film è solo l'inizio, viene proprio detto nel film. L'argomento di questo video, la ricerca di questo video è solo l'inizio, quindi non so, magari il terzo film, il terzo film vabbè, l'ottavo film durerà nove ore, perché se per l'inizio hanno fatto due ore e 47, quasi tre ore, il resto del piano, il resto della sistemazione di questo problema, quanto dovrebbe durare? Sinceramente però devo dire che due ore e 47 sono passati leggermente veloci. Leggermente veloci in che senso? Nel senso che non sono pesati, perché ci sono film che durano un'ora e trenta ma che pesano. Questo è vero, per esempio Venom 2, Venom 2 pesa un casino e dura un'ora e venti, venti, ventisette. Ecco, parlare sempre male di Venom 2 fa bene, quindi apposto. Appunto, nonostante duri due ore e 47 si sentano alcune scene prolungate, la durata generale non si sente. Io ho sbadigliato solo una volta, che è già qualcosa con un film di due ore e 47, ormai praticamente tutti i film importanti durano tantissimo e non capisco perché vogliano farli durare così tanto, soprattutto quando non c'è tantissimo da raccontare come anche in questo caso, però generalmente l'intrattenimento l'ho sentito, mi sono sentito intrattenuto, ho provato anche abbastanza tensione per i personaggi, cioè ansia per i personaggi, quindi mi sono messo un po' nei loro panni e penso anche tu comunque, nonostante, ripeto, lui ancora non ha visto gli altri sei film, li guarderà adesso, l'ha promesso, forse, però comunque a parte gli scherzi non lo vedrai oggi sicuramente, almeno non tutti, ma interesse questo settimo capitolo te l'ha smosso per la saga? Sì, abbastanza, devo dire che ho voglia di recuperare gli altri sei, ovviamente con il passare del tempo non tutti in una settimana di certo, vabbè, come dice lei, io li ho recuperati in una settimana però va bene, ma io ho altre cose da fare, ma adesso siccome lui non è addetto diciamo a queste cose, magari gli viene abbastanza difficile parlarne senza spoiler, senza entrare nei dettagli, direi di magari entrare già nella parte spoiler di questa recensione, ne parliamo generalmente, diciamo, ne parleremo poco, comunque sarà più un discorso tra noi due appunto per poterne discutere al meglio entrando nei dettagli, quindi se non avete visto Mission Impossible vi invito a lasciare questo video perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1, quindi parliamo di questo film, partiamo intanto dal villain, il villain è un'intelligenza artificiale, non si sa nulla di questa intelligenza artificiale da chi è stata creata, in realtà sì, un po' dagli americani, ma poi è stata rubata dai russi, non si capisce chi abbia in mano questa intelligenza artificiale, soprattutto non si capisce che cosa voglia fare realmente, ok? L'obiettivo esplicitato da Gabriel, ovvero questo villain retconnato dal passato di Ethan Hunt, lui ci dice che l'obiettivo deve far soffrire Ethan Hunt, ma questo mi sembra più l'obiettivo di Gabriel che dell'intelligenza artificiale, anche perché in un momento, non so se te ne sei accorto, quando Benji, ovvero Simon Pegg, sta guidando e sta informando Ethan Hunt del piano, cosa ci sarebbe voluto a intelligenza artificiale comandare quella macchina e uccidere Benji? Ecco, la cosa è abbastanza strana, penso sia un errore di sceneggiatura, quindi un problema a cui non hanno pensato, ma ti non dice che l'obiettivo dell'intelligenza artificiale non sia realmente quello di far soffrire Ethan Hunt o di far del male a Ethan Hunt, perché alla fine si può essere comandata da chi vuoi, ma secondo me si comanda da sola ormai, come sicuramente alcune teorie complottiste iniziano già a dire da adesso e probabilmente arriveremo anche all'intelligenza artificiale che si comanda sola. A te è piaciuto come villain presentazione? Ovviamente puoi parlarne con spoiler nel dettaglio. Assolutamente sì, anche perché la cosa che mi è piaciuta è che non sono ben precisi sul villain, quindi ci lasciano quella tensione in più come se fossimo proprio un personaggio all'interno. Quindi non è come in certi film che ci spiegano tutto il dietro e il piano del villain bene e questo apprezzo veramente molto. Qui lasciano all'immaginazione anche perché praticamente questo villain essendo un'intelligenza artificiale mondiale o anche spaziale chi lo sa sa tutto dei personaggi c'è la scena appunto nell'aeroporto che dicevo prima che solitamente il climax dei film Mission Impossible ovvero la bomba è la cosa finale di si innescare la bomba qui invece la presentano all'inizio film c'è appunto sempre Benji Simon Pegg che trova questa bomba ed è una bomba creata dall'intelligenza artificiale con degli indovinelli c'è scritto Seidan ovvero il cognome di Benji quella scena ovviamente sapevo che essendo una bomba nucleare non poteva scoppiare perché sarebbe stato un problema a un'ora del film però comunque la tensione l'ho sentita abbiamo poi appunto le chiavi le chiavi sono l'elemento importante un po' come Indiana Jones che deve andare a trovare il quadrante del destino in questo caso comunque il teschio di cristallo devo ammettere che questo ping pong di chiavi mi ha fatto molto ridere il modo in cui se la rubavano era incredibile cioè bastava solo un piccolo spintone che già l'aveva l'altra persona a 200 metri di distanza è vero infatti c'è comunque il fatto dell'accendino che ritorna sia all'inizio all'inizio vabbè c'è il giochetto tra Grace e Ethan un po' l'accendino ce l'ho io no no ce l'hai tu ecco però poi alla fine ritorna nel momento importante ovvero quando rubano la chiave a Gabriel la scena sul treno ovviamente quella tensiva perfetta secondo me non perfetta dal livello totale nel livello totale perché comunque molto lunga potrebbe annoiare chi magari non è interessato così tanto a quei momenti cosa che è successa comunque non a noi due ma il conteggio dei vagoni secondo me è veramente qualcosa di pazzesco e probabilmente questa scena potrebbe rientrare tra le scene cult di un Mission Impossible nel futuro perché come alcune scene del primo film come quella del treno e dell'aereo dell'elicottero che si spacca in galleria quella secondo me anche questa del treno il conteggio dei vagoni diventerà in qualche modo cult all'interno della saga di Mission Impossible secondo me è stata realizzata veramente in modo ottimale sotto il punto di vista di tensione perché nonostante sai che Tom Cruise che Ethan Hunt non morirà almeno in questo settimo capitolo poi poteva succedere di tutto in realtà perché non è detto però sapevi che in qualche modo si sapeva che comunque non sarebbe morto Ethan Hunt nonostante questo tu hai paura per quel personaggio per quel vagone che sta per cadere anche per lo stesso personaggio di Grace lei era un po' più papabile per la morte ma anche lei secondo me sarà un personaggio che si porteranno anche nell'ottavo e nel futuro di Mission Impossible devo dire che questa scena mi ha ricordato leggermente Titanic l'ho paragonato alla nave che si sta inclinando e che piano piano l'acqua sale quindi mette più tensione quindi si è spenta un attimino la videocamera è cambiata un po' sicuramente l'inquadratura ma per quanto riguarda il villain Gabriel che è interpretato dallo stesso attore di Deathstroke della seconda stagione di Titans tu sapevi pensavi che questo personaggio fosse in realtà retconnato come appunto non avendo visto la saga pensavi che fosse un personaggio retconnato in questo film o hai pensato a un vero personaggio del passato di Ethan Hunt assolutamente no devo dire che è stato inserito veramente bene quindi hai creduto diciamo che fosse un personaggio realmente esistito nel passato di Mission Impossible all'inizio si anche perché sapeva molte cose di lui a causa di questo Gabriel Deathstroke lui entra nell'IMF per proteggere le persone che ama cosa che sfortunatamente non riesce a fare con Ilsa perché in questo film Ilsa muore sembra un po' perché non abbiano dove metterla con il prossimo cioè mi sa che l'hanno levata di mezzo perché non sapevano più che farsi di questo personaggio ed è appunto il colpo di scena che secondo me era abbastanza prevedibile fin dall'inizio perché intanto nella scena in Egitto comunque dov'era non mi ricordo nel deserto lei fa finta di morire e già lì la prima bandierina l'ho sentita poi viene detto intanto che lei se non sbaglio non ha più nulla da perdere e quando un personaggio non ha più nulla da perdere è già addio e poi appunto c'è proprio Gabriel che dice stasera uno dei due morirà e secondo me per dare appunto quel danno a Ethan Hunt veramente una delle due sarebbe morta e siccome Grace è entrata adesso nei Mission Impossible ovviamente Ilsa era la papabile per la morte e infatti sul ponte è morta è morta però sinceramente non so io forse perché non me ne intendo non me l'aspettavo così tanto forse perché non sono bravo a capire queste piccole bandierine come dici tu vabbè però ci sta ovviamente ti ha lasciato una persona normale mi ha lasciato a bocca aperta i primi minuti tipo poi appena finito i primi secondi parlando appunto del finale con Pond Clemente non mi ricordo adesso il personaggio come si chiama nel film ma Mantis diciamo che aiuta Ethan e Grace nella scena del treno con questo taglio che si vede poi loro sono tranquilli a posto non sono morti con il vagone che cade diciamo che è una cosa che non ho apprezzato tantissimo questo cambio di prospettiva da parte del personaggio nonostante la Yi l'avesse predetto perché a questo punto è un po' un mago questa questa intelligente artificiale una maga una strega visto che prevede le cose come se fosse appunto l'intelligenza artificiale a scrivere il film esatto potrebbe essere anche questa speriamo non sia stato realmente speriamo non sia stato realmente così perché sennò sarebbe un problema si scopre che chi ha creato i set Mission Impossible è un'intelligenza artificiale magari non i set ma questa scena finale a parte tralasciando tutta la parte del treno sia sopra il treno che dentro il treno pazzesca la parte prima vabbè un po' meno molto lunga quella della contrattazione tra la finta vedova bianca Vanessa Kirby che ha gli occhi diversi è una cosa che hanno stavolta tenuto in conto con la maschera questa volta hanno usato sì le maschere ma al contrario dei soliti film cosa che tu ovviamente non puoi sapere non hanno cambiato anche gli occhi delle persone che stanno sotto la maschera infatti qui nel film è Elite Etwell a tenere la maschera di Vanessa Kirby e siccome Vanessa Kirby ha gli occhi celesti in realtà in quella scena ha gli occhi marroni una cosa che ho notato che sapevo degli altri Mission Impossible che si basava soprattutto sulle maschere che i vari colpi di scena erano sulle maschere il secondo in realtà forse sì vabbè ma forse gli hanno fatto notare e gli si è rotta giusto giusto la macchina per creare le questo succede già nel quarto film in realtà nel quarto film già si rompe la stampante 3D infatti ne usano poche di maschere quarto o quinto adesso non ricordo no quarto quarto mi sa che era il quarto sì quindi in realtà solo nel secondo hanno hanno usato così tante maschere all'inizio nel primo film era un espediente interessante perché era comunque qualcosa di nuovo nel 96 ma la usavano molto meno nel secondo film invece l'hanno usata davvero tantissimo tanto e con le facce il regista di quel film ne sapeva fare visto che ha fatto face off con Nicolas Cage e John Travolta dove i personaggi cambiavano faccia scambiavano faccia poi in realtà le maschere sono state usate sempre meno sempre meno nel sesto se non sbaglio veramente una volta e nemmeno forse la maschera quindi diciamo non è un espediente usato così tanto a parte nel secondo film qui invece l'hanno usata solo in questo caso se non sbaglio solo nel momento di scambio finale con i 100 milioni di dollari da parte di Keytrade sul treno basta poi nel resto non ne hanno usato mi pare anche perché stava finendo il film quindi nel finale non ci sarebbe stato bisogno sicuramente Italanto non aveva bisogno di una maschera per salvarsi dal vagone che cade plot twist è quella che l'ha salvati non era veramente ma è Mantis non ricordo la francese la francese no la francese il francese in the land vabbè lascia stare non ricordo come si chiama vabbè era la francesina ma si scopre che era Benji si così a caso però non so per quel motivo Benji dovesse morire alla fine però va bene comunque perché muore no non muore in realtà non muore c'è il poliziotto lì dell'IMF che gli controlla il battito e c'è ancora quindi sarà sicuramente un altro personaggio centrale non centrale comunque un'altra mission un'altra impossible girl di mission impossible infatti se non sbaglio si vengono chiamate così le accompagnatrici di Ethan Hunt nei film questo era un discorso più generale sul film ti ringrazio per aver partecipato a questo video so che è stato abbastanza difficile per te perché non sei abituato comunque né a parlare di film di cinema in generale in questo caso e neanche di parlare davanti a una telecamera quindi è qualcosa di differente però ti ringrazio comunque per la partecipazione avvicinati magari un pochino di più verso il microfono così siamo anche a posto a posto e niente vuoi salutare tu qualcosina? no no dai un salutino vai saluto la mamma saluto a te fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Mission Impossible Dead Reconing parte 1 parte 1 noi ci vediamo a un prossimo video sempre su questo canale sto sbagliando l'outro vabbè la rifaccio e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao